Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! perché è un gioco che mi ha davvero convinto dopo avermi lasciato qualche dubbio durante le prime ore lo sto giocando attualmente su un server affittato su nitrado ma lo potete tranquillamente giocare anche con amici ostandolo dal vostro pc lo fa senza eccessivi problemi diciamo ci sono giochi non indie come questo, non in early access come questo che hanno comunque più problemi quindi insomma per quello ve lo consiglio anche condiviso dal vostro pc ovviamente c'è lo svantaggio che quando voi non siete online il vostro amico o i vostri amici non possono giocare il primo motivo per cui io vi consiglio questo gioco è l'ambientazione l'ambientazione è in stile norreno, vichingo, nordico sono ambientazioni veramente bellissime si va dalle praterie verdi sconfinate alle foreste di pini potete trovare delle location davvero uniche dove costruire la vostra base il panorama che potete vedere sia dal punto di vista marittimo quindi guardando dalla costa sia guardando verso l'entroterra, verso le foreste è assolutamente unico di biomi ce ne sono tanti ce ne sono alcuni anche in sviluppo perché il gioco uscirà comunque tra in 1.0 tra almeno un annetto e mezzo hanno detto un paio d'anni da gennaio 2023 però insomma le ambientazioni sono tanti i dungeon sono tanti ci sono tante risorse da scoprire ma a livello impatto visivo con lo stile grafico che ha con gli effetti di luce che ha diciamo che l'ambientazione è una delle parti più interessanti se le immagini che state vedendo ora vi convincono, vi piacciono insomma ecco fidatevi l'ambientazione è veramente un punto forte ogni bioma ha le sue cose uniche a partire da materiali, tipi di nemici, difficoltà crescente si va fino a luoghi molto freddi che richiedono equipaggiamenti specifici il secondo punto è la costruzione la costruzione è veramente ben fatta la costruzione a differenza di altri giochi soprattutto survival deve essere posizionata con una certa logica cioè non potete fare strutture a sbalzo o almeno le potete fare fino a un certo punto dopodiché crollano quindi questo crea un bellissimo elemento di gioco perché ogni colonna che voi piazzate non è estetica ma funzionale quindi è molto bello perché la costruzione di mura vi protegge da trolla enormi che potrebbero spuntare col loro testone dalle mura del vostro città del vostro villaggio insomma che avete costruito la vostra fortezza e tutte le colonne serviranno a sostenere nel caso in cui voi decidiate di costruire un tetto immenso alla vostra struttura il gioco tiene conto anche del fumo perché per poter dormire per poter vivere in una casa dovete avere un fuoco un focolare e se voi non costruirete un cammino questo vi affumicherà durante il sonno durante tutte le fasi in cui girerete e vagherete all'interno della vostra casa potrete costruire anche diciamo materiali diciamo più resistenti come una pietra partite dal legno insomma la costruzione è parecchio semplice nella costruzione è assolutamente semplicissima ma dovrete studiare il modo perché non potrete fare delle cose veramente strane come si fanno in tanti altri giochi che secondo me stonano un po' qua è tutto in base alla logica quindi dovrete puntellare pavimenti soffitti in modo da poter tenere tutto in piedi e soprattutto tenete conto la cosa molto bella che il tetto protegge dall'acqua ma se lasciate dei pavimenti ad utilizzo come tetto o pavimenti non coperti il legno marcerà ed è un effetto visivo molto bello il crafting anch'esso è uno dei motivi ovviamente stiamo parlando di un survival e questo il survival lo fa davvero bene il crafting è ampissimo potete craftare grazie alle working bench quindi i tavoli da lavoro o il vostro martello entrambe le possibilità di costruzione si espanderanno man mano prenderete in mano materiali nuovi che siano minerali tipi di legno nuovi oggetti lasciati dai mob e quindi potrete andare a craftare ogni genere di cosa passando da tavoli sedie che comunque vi faranno riposare letti zone di smelting quindi per raffinare risorse produrre carbone produrre sidro insomma idromele quello che servirà poi per potenziare il vostro personaggio passando anche per il carretto che vi consentirà di trasportare le risorse perché dovete andare anche molto lontano ed è una meccanica che all'inizio a me non piaceva ma alla fine mi sono reso conto che dà molta soddisfazione potrete craftare armi di ogni genere di ogni materiale e via via andando avanti sia espandendo dal punto di vista le strutture che gli oggetti e le armature un punto molto importante di cui non si parla spesso è il meteo all'interno di un gioco e anche se vogliamo gli eventi perché perché il meteo qui è quanto mai importante molto più che in altri giochi immaginate di aver costruito la vostra prima nave e andare in esplorazione quando improvvisamente scoppia un enorme temporale sul mare non parlo di mosti marini ci sono anche loro ma calcolate il mare si ingrossa la visibilità è limitata e l'acqua vi bagna bagna la nave danneggia la nave ovviamente ma non così tanto però insomma però con la visibilità limitata e il vostro personaggio completamente bagnato sia dall'acqua di mare che è cresciuta insomma il mare si è ingrossato ho detto ma anche dalla pioggia del temporale vi si rigenererà la stamina molto più lentamente cadrete in acqua sarete praticamente quasi spacciati perché senza stamina o con la stamina che non si rigenera più in acqua non potrete più uscire immaginate anche di rientrare a casa dopo essere scampati a questo temporale e c'è un evento la foresta vi attacca e quindi i piccoli nani i mob nemici vi attaccano e parte un piccolo evento di attacco e magari piove piove ancora e quindi avete la stamina limitata di fronte a una decina di mob nemici ostili il metro in questo gioco è veramente molto ben fatto sia a livello visivo che a livello di malus che vi dà così come magari avete deciso di passare una giornata tranquilla a casa a craftare e a raffinare tutte le merci che avete lutato nei giorni di gioco precedenti e scoppio temporale in questo caso siete protetti dalla vostra fortezza e la costruzione della vostra fortezza vi dà appunto la soddisfazione primo di averla costruita bene funzionale perché non vi fa bagnare però a livello visivo godersi un temporale all'interno della propria fortezza è veramente impagabile ecco questo è un lato il meteo e i piccoli eventi di gioco di cui non si parla spesso in nessun gioco in questo caso in Valheim mi piace veramente tantissimo il quinto ultimo punto è la crescita del personaggio per certi versi a me è ricordato un pochino quella dei piranha bites mi spiego non è un gothic non è un Ryzen non è un ogni altro tipo di gioco loro ma un Elexa ma vi dà un'immensa soddisfazione perché partirete con una piccola clava piuttosto che un arco scadente fino ad arrivare a spade e lanci di metallo partirete da una tunica di cenci fino ad arrivare ad armature a piastre metalliche o in pelli per proteggervi dal freddo e questo vi faciliterà un po' come capita nei giochi di ruolo l'approccio ai biomi ovviamente i biomi è tutto molto schematico equipaggiati base a livello 0 affrontate abbastanza bene il primo bioma ma equipaggiati a livello 1 o 2 affrontate come niente il bioma iniziale e abbastanza facilmente il bioma subito successivo mentre quello dopo ancora avrà bisogno di ulteriori potenziamenti potenziamenti che arrivano in modo naturale perché nei nuovi biomi scoprirete i nuovi materiali andrete a recuperarli farete delle spedizioni vi organizzerete da soli o con i vostri amici il gioco è ampiamente godibile anche da soli è molto rilassante nelle fasi di costruzione di crafting il combattimento lo procedete con con attenzione perché morendo perderete dei livelli appunto la crescita del personaggio è il mio quinto punto unito anche al fatto che avrete una serie di skill che man mano andranno ad aggiungersi sempre più nuove skill in base al tipo di arma in base all'attività che date a fare dal salto alla corsa e il livellare queste cose vi faranno ad esempio il salto consumare meno stamina mentre lo fate e stessa cosa anche per il combattimento e la stamina è alla base di tutto insieme ovviamente alla vita la crescita del personaggio e anche l'alimentazione è fatta molto bene perché potrete mangiare tre cibi diversi e ogni cibo potrà darvi più stamina o più vita o un apporto bilanciato delle due statistiche e anche qui andrete a mangiare il cibo in base a quello che dovete fare dite no questa è una missione abbastanza sicura abbastanza tranquilla mi serve stamina perché ho bisogno di magari dover tagliare o picconare tanto senza dovermi fermare a riposare oppure no andiamo a fare dei dungeon perché ci sono anche i dungeon e quindi mi mangio tre cibi che mi danno mi pompano la vita al massimo queste sono appunto tutte le cose che dovete considerare quindi crescita del personaggio e amministrazione del personaggio sono il quinto punto per cui io vi consiglio questo titolo ora io non ho mai fatto video del genere fatemi sapere che cosa ne pensate se vi ho convinto se il gioco non vi piaceva prima adesso non vi piace ancora di più o vi piace invece fatemi sapere lasciatemi un commento qua sotto che potrebbe essere spunto di riflessione della parte mia per i video futuri io con questo vi saluto e vi rimando ai prossimi video gameplay alla prossima e ciao ciao ciao